Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di Bandicam, il software che utilizzo per registrare, acquisire, catturare video e screenshot sul computer. Bandicam, inizio con il dire che non è gratis, o meglio, è gratis ma limitato. Dovete acquistare la licenza per accedere a tutte le funzionalità e non avere il logo Bandicam sullo screenshot o sul video, ma a mio avviso è uno dei migliori software per appunto catturare, registrare lo schermo, acquisire lo schermo, eccetera, eccetera. Come funziona? Una volta che avete installato il software e l'avete lanciato, se cliccate qui avete la possibilità di decidere se catturare uno schermo, io ne ho tre, quindi quale degli schermi. Se catturare un rettangolo, quindi magari registrare solo una parte dello schermo, oppure un'area selezionata, quindi se ad esempio io ho questo schermo e voglio catturare solo la parte delle icone, posso tranquillamente utilizzare la prima opzione, o questa opzione, scegliendo il riquadro e posizionandolo dove desidero. Una volta che avete scelto questo avete anche la possibilità di registrare il gioco, quindi se magari state giocando al pc e volete catturare il gioco potete farlo cliccando qui, oppure HDMI se si tratta di una periferica esterna. Una volta fatto questo, andate su generale, da qui scegliete dove salvare il video, quindi avete la possibilità di scegliere il percorso, la directory, la cartella dove salvare foto e video. Quindi diciamo è un percorso generale di output e di uscita. Andando su video avete la possibilità di assegnare un tasto, quindi potete ad esempio, come nel mio caso, assegnare il tasto meno della tastiera per registrare o interrompere il video. Quindi potete anche assegnare un tasto per metterlo in pausa. Aggiungere l'effetto del click, aggiungere la webcam, mostrare il cursore del mouse e accedere alle impostazioni da dove poi potete configurare la cuffia che volete utilizzare, l'audio, quindi da dove proviene l'audio ed altre opzioni interessanti. Come la possibilità di isolare l'audio, quindi se cliccate qui praticamente viene salvato sia il video, come in questo caso, che una traccia audio. Avete la possibilità di mischiare il tutto con questa voce, quindi audio e video insieme. Impostare una webcam, il mouse, il logo, eccetera, eccetera. Quindi anche da qui potete ad esempio impostare il logo che preferite sulla registrazione, il testo, eccetera. Andando su video, scusate, su foto, è la stessa cosa solo che riguarda gli screenshot. Quindi potete indicare un tasto per gli screenshot, potete indicare se mostrare il cursore, il logo o il suono dell'otturatore quando viene catturato uno screenshot e scegliere il formato tra bitmap, png, jpeg, normale, alta qualità e personalizzato. E questo per quanto riguarda le impostazioni del programma. Quindi una volta che avete settato il programma come vi ho illustrato, avete la possibilità, premendo un tasto che indicate qui, di catturare uno screenshot alla risoluzione formato da voi indicato, o registrare, catturare e acquisire un video dal vostro pc, quindi magari desktop o dove vi trovate, da un gioco o da una periferica esterna HDMI. Quindi potete catturare ad esempio un qualsiasi dispositivo o piattaforma connesso via HDMI, con la possibilità inoltre di attivare o meno la webcam in sovraimpressione. Bandicam, ripeto, è gratis ma limitato. Se volete accedere a tutte le funzionalità e eliminare il logo di Bandicam dalle foto o dai video, dovete acquistare una licenza.